Il posto segreto. Questa è la selva domestica per eccellenza, è quella che a voi bambini piace un sacco, è la tana, è il posto dove rifugiarsi ed è proprio quello che ha fatto la protagonista di questo libro. Arianna ha fatto un viaggio, un viaggio in cui ha trovato il suo posto dove stare, un posto molto bello, un posto misterioso, un posto in cui colleziona un sacco di oggetti e di cose curiose, bellissime, è un posto dove incontra addirittura una creatura molto molto particolare. In questo posto a lei piace molto stare e si perde via, non si rende conto del tempo che passa, del luogo dove è, ma a un certo punto qualcosa la riporta alla realtà. E poi cosa scopriamo? Ma l'avrà fatto veramente questo viaggio Arianna?